Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, la giornata di giovedì si conferma ancora instabile per alcune zone del sud Italia e le due isole maggiori, temporali a macchia di leopardo, c'è spazio comunque anche per qualche schiarita. Bello invece sulle rimanenti zone del centro nord, qui l'alta pressione mette i suoi massimi proprio oltralpe, quindi proteggerà il nostro settentrione dall'arrivo di temporali e piogge. Prossima grafica che ci fa vedere appunto una giornata di bel tempo attorno a questo minimo ancora attivo sul basso Tirreno, sul Mediterraneo ruota la nuvolosità, bello al nord. La prossima grafica ci fa vedere l'ampio soleggiamento sulle nostre pianure del nord, ma guardate anche gran parte dell'area alpina, Toscana, Marche e Umbria. Eccoli qui, scrosci di pioggia con ventilazione ancora vivace, gagliarda su tutti i mari del sud. Dettagli, approfondimenti come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.